E altri venti anni passarono e il nuovo procuratore della Giudea, Fonzio Pilato, portò altri eserciti da Oriente e dal Meridione. Ma sulle colline li aspettavano nascosti diecimila ribelli giudei. Il loro capo Barabba, ricercato per furti assassini, preparava la trappola per i lupi di Roma. Questi sono troppi, Barabba. Li divideremo. Dovrebbe esserci una fonte d'acqua sul tolle. Dà un'occhiata alla zona. C'è acqua fresca più avanti. Faccio riposare gli uomini? Ma per poco. Conduci una colonna alla sorgente. Prima colonna, seguitemi! Colonna, riposo! Colonna, riposo! Colonna, riposo! Colonna, riposo!